Un ciclista è stato investito da un'auto nel pomeriggio a Udine, soccorso e trasportato d'urgenza in ospedale in condizioni critiche, l'incidente lungo viale Monsignor Nogara e poi c'è un video che ha dell'incredibile un'auto che scende ai gradoni della Basilica delle Grazie. Nel nord Italia una maggiore diffusione di mafie e altre associazioni criminali, anche straniere, si sta registrando nei territori delle province di Cuneo e Asti in Piemonte, nel Pavese e nel Mantovano in Lombardia e nella provincia di Porrenone in Friuli Venezia Giulia, a dirlo Chiara Colosimo, presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle mafie e le altre associazioni criminali nel corso del convegno sul caporalato, ospitato oggi in Consiglio regionale. Sale, come atteso con l'avanzare della stagione fredda, l'incidenza delle sindrome simil-influenzali in Italia e in Friuli Venezia Giulia. Nell'ultima settimana i casi stimati sono circa 630 mila, per un totale di oltre 2 milioni e 900 mila, a partire dall'inizio della sorveglianza. Risultano maggiormente colpiti i bambini al di sotto dei 5 anni. L'appello dell'infettivologo a vaccinarsi. Per le imprese del Friuli Venezia Giulia a dicembre arriveranno 6200 nuove assunzioni. Il dato è stabile rispetto allo scorso anno, ma in crescita rispetto al trimestre dicembre-gennaio. A trascinare i contratti, il commercio e il turismo. Permane elevata però la difficoltà nel reperire professioni sempre più difficili. Operai specializzati nelle costruzioni, fabbri ferrai, tecnici della salute, il personale non qualificato in agricoltura e nelle manutenzioni del verde. Buona serata e ben ritrovati in diretta con l'informazione di TV12. In primo piano la cronaca con un gravissimo incidente stradale che si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi a Udine, lungo viale Monsignor Nogara. Queste le immagini rispetto al sinistro che ha visto protagonista, insomma, al grado un ciclista investito da un'auto mentre stava attraversando la strada nel lato dell'arteria che porta verso l'uscita dalla città di Udine all'altezza dell'istituto Marinoni dopo la rotonda di via della Faula. Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118 con un'ambulanza e un'automedica assieme alla polizia locale. Il ciclista è stato preso in carico dal personale medico e trasportato in gravissime condizioni con l'equip al Santa Maria della Misericordia in codice rosso. La sua prognosi è strettamente riservata. Sul posto avete visto anche la polizia locale per i rilievi e per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Incidenti poi nel corso della giornata in altre strade del Friuli, ad Osoppo in particolare, nei pressi della rotonda verso l'autostrada A23 con lo scontro tra due mezzi pesanti, feriti i conducenti in modo lieve. Sono stati trasportati tra gli ospedali di Udine e San Daniele del Friuli. E ancora altro incidente a buia. In questo caso è intervenuta l'ambulanza e i vigili del fuoco con un'altra persona risultata, rimasta ferita e trasportata sempre in ospedale nel capoluogo Frulano. A Trieste invece c'è stata una caduta in acqua dal molo Audace, è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Cattinara. Infine c'è stato un incidente sul lavoro in mattinata nella zona industriale di San Giorgio di Nogaro con ferite lievi per l'operaio protagonista dell'incidente. C'è anche un video ormai divenuto virale nel corso della giornata con un'auto, una berlina, la vedete in queste immagini, che nella tarda serata di ieri ha pensato bene di scendere le gradinate della Basilica delle Grazie verso piazza Primo Maggio. Probabilmente in uscita dal parcheggio che si trova nei pressi della Roggia, ha invocato male l'uscita, l'auto è scesa lungo i gradoni. E adesso le immagini sono al vaglio anche delle forze dell'ordine per capire. Il conducente protagonista di questa uscita con la sua automobile lungo i gradoni. Noi cambiamo argomento e torniamo ad occuparci ora della mafia, delle mafie, della criminalità che sempre di più si infiltrano anche nel nord Italia. Oggi c'era un appuntamento importante in consiglio regionale alla presenza di Chiara Colosimo, presidente della commissione parlamentare di inchiesta sulle mafie e le altre associazioni criminali. Ebbene che cosa è emerso? Che nel nord Italia c'è sempre una maggiore diffusione di mafie e altre associazioni anche straniere che stanno guadagnando terreno nei territori delle province di Cuneo e Asti in Piemonte, nel Pavese, nel Mantovano, in Lombardia e nella provincia di Pordenone e in Friuli Venezia Giulia. A livello europeo si tocca i settori dell'agricoltura in Spagna, in Grecia e in Francia, ma anche la macellazione delle carni in Germania, così come i settori dell'edilizia, della logistica e dell'editoria. In un video il ministro per i rapporti col Parlamento, Luca Ciriani, ha definito poi il caporalato una piaga, fenomeno molto diffuso che deve essere stroncato e la cui esistenza è legata al controllo della rotta balcanica, visto che molta immigrazione clandestina che arriva nelle nostre terre sfugge al controllo delle istituzioni e della legalità. Per Pietro Signorello, prefetto di Trieste, la nostra regione, secondo i dati, non ha una posizione di rilievo, salvo un procedimento giudiziario in provincia di Gorizia. Nelle altre province c'è molta attività di prevenzione e contrasto e sono moltissimi i controlli. E a margine della seduta abbiamo raccolto le voci del comandante della Guardia di Finanza di Pordenone, forza che si è resa protagonista negli ultimi mesi di diverse indagini relative al caporalato, ma anche del Presidente della Commissione regionale antimafia, Sbriglia. Anche una regione come la nostra non è immune dai rischi delle infiltrazioni mafiose, è stato detto da tutte le massime autorità giudiziarie e di pubblica sicurezza, dobbiamo alzare il livello degli anticorpi. C'eravamo accorti che c'erano diverse aziende che aprivano e per le quali non figuravano dipendenti, benché queste fatturassero ai loro clienti corposi importi. A quel punto ci siamo riproiettati sul territorio cercando di fare degli interventi massivi per capire queste aziende quali lavoratori avevano e abbiamo cominciato a raccogliere informazioni e risultati sul fatto che c'erano molti lavoratori senza tutela, lavoratori in nero o irregolari. I numeri sono cresciuti nel 2022 e sono esplosi nel 2023, dandoci una cifra di lettura che è quella che molti imprenditori, ancora una piccola parte in realtà della regione Friuli-Venezia-Giulia che rimane una regione virtuosa, però preferiscono anziché la dignità del lavoratore il profitto della propria azienda. Esiste un sfruttamento interno e anche una sorta di gerarchia ben disciplinata in base al quale il lavoratore che arriva dopo qualche anno diventa un autista, poi diventa titolare di partita IVA e poi a sua volta responsabile di un gruppo di suoi connazionali. Ma le lavorazioni specie nel mondo dell'agricoltura interessano poi imprenditori locali che alla fine dietro il paravento di un contratto di appalto hanno però un profitto importante. I relatori hanno parlato senza filtro e hanno detto chiaramente come sia necessario intervenire anche sul piano legislativo, impiegando anche norme da farsi che abbiano una loro logica operativa, una maggiore tecnicalità. Continuiamo con la cronaca con un altro grave episodio registrato nella serata di ieri nella zona di via del Vascello, nei pressi di Viale Palmanova, con un'aggressione d'una rapina. Un nuovo caso di violenta rapina si è verificato nella serata di ieri a Udine dove un uomo classe 1989, cittadino marocchino, residente nel capoluogo friulano, è stato accerchiato da un gruppo di malviventi che lo hanno picchiato e derubato dei propri effetti personali. Il fatto è avvenuto nei pressi del parcheggio di via del Vascello, a poca distanza dalla stazione ferroviaria di Udine, dove il 34enne si è visto accerchiato da tre uomini a volto scoperto prima di essere colpito alla testa. I delinquenti hanno quindi estratto alcuni coltelli, minacciando la vittima e costringendola a consegnare il proprio telefono cellulare e il portafoglio contenente i documenti e 300 euro in contanti. Una volta recuperato il bottino, i rapinatori si sono allontanati velocemente a piedi, facendo perdere le proprie tracce, mentre il cittadino marocchino si è rivolto presso la vicina caserma dei carabinieri di Viale Trieste per denunciare l'accaduto. L'uomo ha raccontato alle forze dell'ordine di essere certo che gli aggressori fossero di nazionalità magrebina, informazione utile ai carabinieri di Udine impegnati ora nelle indagini volte a risalire all'identità dei tre responsabili. Il personale della questura di Udine invece ha accompagnato al centro di permanenza e rimpatrio di Gradisca di Zonzo un cittadino algerino con a carico numerosi precedenti penali appena scarcerato dalla casa circondariale dopo che lo stesso era stato arrestato il 6 novembre scorso in esecuzione ad un ordine di carcerazione messo dal Tribunale Friulano per una serie di reati contro il patrimonio. L'uomo si era già reso responsabile di un grave episodio nel febbraio del 2022 quando aveva aggredito una donna causando le lesioni. In quella circostanza era stato arrestato per tentato omicidio colposo. Il giudice in sede di convalida aveva emesso nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere dove si trovava fino appunto allo scorso mese di ottobre. E a Gradisca di Zonzo si continua a discutere dei migranti con la nostra Angela Caino. Stamattina siamo andati a vedere Chiari a Tira. Com'è la situazione in città? La situazione in città è praticamente sempre la stessa. I numeri di accolti al CARA sostanzialmente sono sempre gli stessi. Ci sono stati alcuni trasferimenti però sempre nell'ordine delle decine di persone però nel contempo ci sono stati anche degli arrivi. Noi abbiamo ormai sul nostro territorio dagli inizi di novembre un dormitorio che è stato riattivato quest'anno presso la parrocchia di San Valeriano. Sostanzialmente da quella volta le persone accolte sono sempre tra le 15 e le 20 ogni notte. Sappiamo che c'è un certo turnover, vuol dire che le persone continuano ad arrivare. I numeri attualmente sono questi, sono più bassi rispetto all'anno scorso. Non ci sono rispetto ai migranti che non hanno accoglienza durante il giorno dei fenomeni di aggregazione così evidenti nei parchi cittadini anche perché questi migranti si trasferiscono durante il giorno a Gorizia per cercare di portare a termine le pratiche all'ufficio immigrazione oppure si spostano anche in altri territori. Quindi non ci sono più questi assembramenti diciamo nei nostri parchi. Tuttavia la presenza gradisca è costante nei centri di accoglienza governativi e anche in questo che è una soluzione assolutamente basata sul volontariato dei parrocchiani e di altri volontari anche di paesi vicini a Gradisca. Tutti si stanno alternando, garantendo un posto caldo e sicuro per 12 ore al giorno, dalle 20 alle 8 del mattino e il pasto del mattino che è una colazione. La pagina economica ora con i numeri delle assunzioni previste nel mese di dicembre, 6.200 in Frui Venezia Giulia sulle 85.000 previste per l'interno nord-est. Sostanzialmente stabili quelle relative al mese in crescita del 2,5% nel trimestre, positive le aspettative per il commercio e per il turismo con percentuali che vanno dal 14 al 5% in vista delle festività. Lo scenario è stato descritto dal bollettino Excelsior realizzato dall'Union Camera in collaborazione con Ampa. I dati per la nostra regione sono dati rielaborati dal centro studi della Camera di Commercio di Pordenone e Udine. In particolare poi c'è il settore dell'industria che cerca a dicembre 2.000 lavoratori mentre i servizi più del doppio 4.240. A dicembre il mismatch tra domande offerta interessa circa 3.300 assunzioni delle 6.200 programmate. Tra le professioni più difficili da reperire sono quelle relative agli operai specializzati nelle costruzioni, i fabbri ferrai, i tecnici della salute, gli operai specializzati nelle rifiniture e nelle costruzioni, il personale non qualificato in agricoltura e nelle manutenzioni del verde. Sul fronte occupazionale i dati delle elezioni in una delle più importanti aziende del territorio Frulano, l'ABS di Carniaco, per la prima volta nella storia dell'azienda è stata votata anche una rappresentante sindacale donna. Ad avere la maggioranza dei voti, il 56,5%, la FIM CISL che ottiene 10 rappresentanti sindacali sui 15 complessivi. Ed ora l'influenza sono moltissimi coloro i quali in questi giorni sono rinchiusi in casa, a letto tra raffreddori, febbre e influenza, dati in crescita con un monito lanciato dall'infettivologo Crapis dell'ospedale di Pordinone a vaccinarsi al più presto. Purtroppo effettivamente abbiamo un tasso di vaccinazione, di rivaccinazione, questo è un po' secondo me il tema molto basso. È chiaro, dobbiamo nella valutazione scientifica e statistica considerare anche che chi ha una pregressa infezione negli ultimi due o tre mesi non si vaccina. Effettivamente avendo circolato comunque abbastanza negli ultimi due o tre mesi dobbiamo considerare che una parte più o meno consistente di non vaccinati è anche perché hanno appena avuto il Covid. Però nonostante questo vediamo quotidianamente e costantemente dei pazienti che valutiamo clinicamente o perché ricoverati o perché comunque pronto soccorso oppure perché ci contattano colleghi da medicina generale positivi all'infezione da SARS-CoV-2 che però riferiscono l'ultima vaccinazione nel 2022, ben che vada, ed ecco che quindi è fondamentale rivaccinarsi. In realtà non è neanche del tutto giusto dire rivaccinarsi ma vaccinarsi con la nuova formulazione del vaccino perché ovviamente contiene tra l'altro la variante diciamo così più aggiornata all'incirca rispetto a quelle circolanti. All'ospedale di Pordenone nuovamente a quello di Udine ma per raccontarvi dell'accensione dell'albero di Natale che è stato appunto illuminato da stasera grazie all'iniziativa promossa dall'azienda sanitaria Frulli Centrale. Questo è un segnale che abbiamo voluto dare naturalmente non è solo per l'ospedale di Udine, questo è per tutta quanta ASUFT che naturalmente ha più presidio ospedalieri quindi partendo quest'anno da Santa Maria poi questo lo ripeteremo ogni anno su ogni presidio. Questa è la volontà della direzione strategica, un segno anche di vicinanza come dicevo prima non solo nei confronti dei cittadini che utilizzano i nostri servizi sul presidio ospedaliero ma nei confronti anche di tutti quanti i nostri dipendenti che sono la forza di questa azienda. Una bella sorpresa l'ha definita lei all'ultimo minuto anche sopraggiunto il coro dell'Università di Udine ma una serie di enti che hanno contribuito, quali? Certamente l'Università di Udine rimane parte fondamentale della collaborazione di ASUFT e anche in questo caso il coro dell'Università di Udine ha dato un segnale di collaborazione importantissimo che ci ha realizzato naturalmente questo momento, parte fondamentale sono state anche coloro che hanno contribuito all'installazione dell'albero natalizio, sicuramente dobbiamo ricordare i boschi carnici che ci hanno donato la bete, dobbiamo ricordare Confindustria e Confartigianato che a tutti quanti assieme hanno contribuito all'realizzazione di questo evento. La pagina della cultura ora andiamo ad ammirare i nuovi spazi della Galleria Spazzapan. Nuovi spazi e nuovi progetti per il futuro della Galleria d'Arte Contemporanea Luigi Spazzapan di Gradisca di Sonzo. ERPAC, Comune di Gradisca e Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia hanno rinnovato la convenzione per la gestione della struttura con due novità. La prima è la concessione ad uso gratuito da parte del Comune dei locali attigui dell'ex biblioteca e del Museo Civico al primo piano. Il curatore della Galleria, Lorenzo Michelli. Sarà uno spazio che sarà dedicato sicuramente all'attività delle mostre temporanee, ma anche sarà uno spazio di ricerca e di sperimentazione, nel senso che vorremmo attivare dei restauri a cielo aperto, diciamo, anche comunque attività di informazione, molto legata anche alle ricerche d'archivio per il pubblico. Cioè vorrei che fosse un luogo anche di produzione culturale, oltre che di esposizione, insomma. Seconda novità, la durata della concessione, che passa da 3 a 9 anni. L'assessore regionale alla cultura, Mario Anzil. Avere più tempo a disposizione permette una programmazione più accurata ed è importante in questa fase in cui questo spazio, questa galleria regionale d'arte contemporanea avrà un ruolo determinante anche per Gorizia, capitale europea della cultura, nel 2025. Quindi c'è la possibilità di una programmazione a lungo termine ed è bello che siano coinvolti più soggetti in una sinergia che avrà sicuramente effetti virtuosi per il territorio. Per Gradisca un'opportunità in più in chiave Go 2025 e non solo. L'assessore comunale alla cultura, Marco Zanolla. Questo fa sì che anche Gradisca sarà ancella di quella che sarà la capitale europea della cultura e ci vedrà partecipi in quello che sarà il prossimo progetto regionale di valutazione del territorio culturale regionale. Intanto per il 2024 sono già in programma due appuntamenti. Una mostra dedicata a Zigaina nel centenario della nascita e il prosieguo del progetto Together, dedicato agli artisti del territorio. Ed ora è tempo di sbotta e risposta. Ospite dei nostri studi stasera la scrittrice di fama nazionale e internazionale friulana, Antonella Sbuelz. Diamo il benvenuto nei nostri studi ad Antonella Sbuelz, scrittrice e poetessa tra le figure più emergenti del nostro Friuli Venezia Giulia, nei nostri studi per presentare la sua ultima fatica letteraria. Dico bene? Mariam, sì esatto, un romanzo ambientato sullo sfondo del colonialismo italiano in Libia e quindi una saga familiare che ripercorre in modo particolare 11 anni, 11 anni di storia, di storia italiana, dal 1934 alla fine della Seconda Guerra Mondiale, ricostruendo le atmosfere, gli eventi, i protagonisti, i dettagli anche che hanno cambiato la grande storia del Novecento italiano ed europeo. Da poco ci torneremo, ma raccontiamo a chi ancora non la conoscesse, Antonella Sbuelz, scrittrice, dicevamo, autrice di grandi romanzi di successo, per lei tra i tanti premi ricevuti nel corso degli ultimi anni c'è anche un campiello e poi tanti lavori che hanno portato una dimensione sociale, ma non solo, all'interno di questi volumi che sono letti da un pubblico eterogeneo. Variegato? Da un pubblico eterogeneo. Diciamo che i due filoni conduttori che in qualche modo mi guidano, le due passioni grandi che mi guidano durante la stesura dei romanzi, sono da una parte l'attenzione al mondo giovanile ed è quello che rientra fortemente nei miei due romanzi precedenti, Questa notte non torno, e l'ultimo, Il mio nome è Ansia. E quelli sono romanzi che mi stanno continuando ad accompagnare negli incontri per i quali vengo invitata, direi continuamente, ormai da due anni e mezzo a questa parte, nelle scuole di tutta Italia. Quindi anche negli ultimi mesi siamo andati davvero da Taranto, Bari, Lecce, fino a Brunico e Bolzano, la settimana prossima sarà la volta dell'Università di Graz e di alcune scuole superiori di Graz. E d'altra parte, la seconda passione che un po' fa parte, ritengo, insomma, del mio DNA di scrittrice è la grande passione per la storia, in particolare per la storia del Novecento. Quindi con Mariam sono ritornata a questa passione prepotente che da sempre appunto connota un po' la mia scrittura e la mia narrativa. Sul fronte, giovani, tanti incontri, diceva, in un momento in cui tra l'altro l'attenzione nazionale è focalizzata su un dramma, l'ennesimo dramma del femmendicidio di Giulia Cecchettin nel vicino Veneto che ha coinvolto anche la nostra regione. Ecco, argomenti di cui si parla sempre di più ma pare, alla luce di questi episodi che si ripetono, non bastino, non sono sufficienti. Naturalmente questo è un tema scottante, complesso e spinoso. Io credo che questi, certo, il ripetersi purtroppo di eventi così drammatici, e lo sappiamo, questo in modo particolare ci ha colpito, perché davvero è avvenuto in un contesto in cui tutti noi potevamo riconoscerci in fondo. Quindi in una situazione che non era quella del degrado, non era quella del disagio, o quantomeno non conclamato, ma in una tranquilla cittadina, in una tranquilla famiglia e all'interno di quello che poteva, avrebbe potuto in qualche modo sembrare, insomma, una relazione almeno inizialmente serena. Ma parlare di ragazzi oggi significa parlare di tante delle loro fragilità, di tante delle loro contraddizioni. Quindi sempre più questa è una generazione fragile, che ha bisogno di grande ascolto, e io credo che anche nelle scuole, lo dico perché molto si è parlato poi dell'opportunità o meno di introdurre una nuova disciplina, che naturalmente sarà fondamentale in termini, come dire, ampi, perché parlare di affettività nella scuola sarà fondamentale. Ci crede lei su questa... Ci credo, ma non basta. Bisogna cambiare la visione della scuola, perché non credo che per i ragazzi inserire una disciplina con altri paletti ed eventualmente con altre valutazioni, e addirittura potenzialmente con nuovi voti, possa essere davvero la strada migliore da percorrere. Vanno cambiate le relazioni all'interno delle singole discipline, puntare molto sull'ascolto, sul loro ascolto, perché ci sono molti nodi, molte fragilità, molte ansie. Anche perché rispetto a un passato, mi permetto, c'è una categoria di ragazzi che vuole raccontare di se stesso, ma deve trovare qualcuno davvero che gli si ponga davanti con un occhio e un orecchio davvero attento. La parola chiave che lei ha pronunciato mi sta a cuore moltissimo da sempre quando scrivo, quando incontro i ragazzi, è empatia. Empatia che significa veramente porsi in ascolto, immedesimarsi, identificarsi, tentare di comprendere anche il punto di vista altrui, quindi calarsi nella vita, nello sguardo, nelle dimensioni, nelle paure, nelle ansie. Ansie, altra parola, insomma, l'ansia è diventata in qualche modo un'emozione preponderante, potente, dominante per loro. E quindi c'è un grande bisogno di ascolto e di lavoro sui propri nodi. Quindi dovremmo veramente puntare su una modalità che cambi in senso ampio, perché non credo ci si possa limitare ad introdurre una materia in più. Una, due ore, certo, potrà servire in parte perché ci porta a focalizzare l'attenzione anche sull'ambito appunto dell'affettività, ma se noi non cambiamo la visione complessiva della scuola, se al posto delle competenze non incominciamo anche a mettere l'umanità e lo sviluppo di tutto ciò che questo comporta potrebbe assolutamente non bastare. Ecco, forse un'altra delle sue passioni, la poesia, su questo fronte può aiutare parecchio. La poesia, mi permetto di ricordare proprio un'immagine che aveva usato un grande poeta e per me anche un grande amico, Pierluigi Cappello, che definiva la poesia l'accentometrista della letteratura e quindi una forma di espressione veloce, veloce anche nella sua capacità innata di bruciare le distanze, forse anche le distanze fra le persone, fra chi scrive e fra chi legge e di creare cortocircuito, cortocircuito fra testa e cuore, fra le nostre emozioni, fra il nostro vissuto e la scrittura che esprime quel vissuto. Andando invece al romanzo di cui è venuta anche a parlarci stasera, Mariam, questo romanzo storico legato appunto ad un passaggio focale del percorso del Novecento italiano e anche della Venezia Giulia, ecco, che cosa racchiude e dove vuole arrivare? Allora, parte innanzitutto, Mariam parte, questa è la sua copertina, e la mostro semplicemente perché parte proprio da qua, la vicenda, nel senso che siamo nel giugno del 1940, l'Italia è appena entrata in guerra e sul cielo di Tobruk, il cielo di Tobruk, il cielo appunto della Libia, del deserto, è solcato dal volo di quello che al momento è l'uomo più potente di Tripolitania e Cirenaica, Italo Balbo. Italo Balbo che è governatore della Libia e sotto di lui c'è la cavalcata di una ragazza giovane, non è una cavalcata soltanto, né la sua, quella di Mariam, è una figura soltanto romantica, questa è una ragazza che sta fuggendo da qualcosa, che vuole raggiungere un luogo per lei importante del proprio passato, quello che è Sabrata, quella che è, cioè, un'antica colonia fenicia poi riscoperta dai romani, quindi in una zona suggestiva da cui purtroppo oggi partono moltissimi migranti, purtroppo perché le condizioni in cui queste persone sono costrette, come lo sappiamo, come sappiamo bene a viaggiare, sono veramente disumane. Ecco, allora giugno 1940, partiamo da lì, ma partiamo da lì poi per incontrare tre coppie in modo particolare, questo in fondo è anche una saga familiare, tre coppie che cercheranno, le cui vite si intrecceranno indissolubilmente a quelle di grandi personaggi della storia, quindi nel libro incontriamo personaggi che hanno marcato la storia del Novecento, in particolare appunto del ventennio fascista e della Seconda Guerra Mondiale, ma anche le vite di persone, uomini e donne che invece dal basso, democraticamente, umilmente, ma con grande tenacia e resistenza tenteranno proprio di sopravvivere, di portare avanti pulsioni, passioni, resistenze e amori che si intrecceranno appunto in modo indissolubile con quello dei personaggi grandi e quindi delle ambizioni, delle aspirazioni, dei cinismi anche, dei personaggi più noti a noi tutti, più noti appunto della storia italiana e non solo. Romanzo tutto da leggere e ci raccontava che verrà presentato anche nelle prossime settimane, se non erro, una serie di incontri anche nella vicina Austria, prossimi. Sì, e l'incontro, diciamo che il primo, la prima di Mariam è avvenuta ieri, è avvenuta ieri sera inaugurando, diciamo, foie d'autore, quindi al Teatro Giovanni, nella mia Udine, in questa terra a cui naturalmente sono legatissima, che è la mia. L'abbiamo inaugurato all'interno appunto di questa rassegna, che intende essere una rassegna artistica e musicale, oltre che letteraria, alla quale partecipano, e questa mi pare una bellissima condivisione, non soltanto appunto il Teatro Giovanni da Udine, ma anche i civici musei e la Biblioteca Civica Ioppi. Quindi una sinergia splendida, ieri sera l'abbiamo presentato con Paolo Musanghini, quindi direttore del Messaggero Veneto, vice direttore, con Martina Del Piccolo, scrittrice e critica literaria, e anche con Alessandro Bacci, direttore editoriale della Vallecchi, che ci ha raggiunto da Firenze per essere con noi per questa inaugurazione, per questo battesimo, per questa prima appunto di Mariam. Un flash anche sul mondo della letteratura, della saggistica in Italia, da diretta interessata che futuro ha, il libro avrà ancora possibilità di emergere, la gente vuole leggere, siamo in una città, tra l'altro Udine, che è reduce da un primato, una qualità della vita, un altro primato che detiene da anni è quello per esempio anche delle librerie, non dimentichiamo. Esatto, io credo che le due cose in qualche modo vadano insieme, cioè che questa sia una città e sia una regione, la nostra sia anche una regione, che tanto, e di questo io sono particolarmente orgogliosa, che tanto ha puntato sulla cultura, sulla cultura nelle sue varie declinazioni, sulla letteratura, abbiamo veramente un record incredibile di eventi culturali splendidi, disseminati, in maniera capillare direi da Trieste a Pordenone, a Udine, a Gorizia con i Festival Estoria, e il fatto che le librerie qui aprano e non chiudano, che ci siano tanti lettori, che la nostra sia una città appunto che della cultura fa una carta vincente in qualche modo e un elemento su cui puntare, mi rende particolarmente orgogliosa. Ecco, tra l'altro, a proposito di questo, Girando l'Italia e l'Europa, ha un consiglio da dare agli amministratori locali, a chi opera nel mondo della cultura in città, per crescere, potenziarsi ulteriormente, un qualcosa che l'ha colpita di altre realtà e che si potrebbe importare? Allora, credo molto nella relazione fra istituzioni e scuole, biblioteche, associazioni culturali e scuole. Ci sono delle formule bellissime che ho visto, nelle quali mi sono imbattuta in altre città e in altre regioni, mi piacerebbe che venissero importante e che ne erano importate, anche appunto nella nostra, laddove per esempio alcune associazioni culturali, mi è capitato in Veneto, mi è capitato in Puglia, propongono alle scuole alcuni libri in lettura, ma la proposta viene in qualche modo avanzata a delle commissioni costituite da studenti e sono poi quegli studenti a avaliare 6, 7, 8 libri, a ritenere, a scegliere, selezionare i tre libri che più li convincono dal punto di vista proprio di studenti, di ragazzi e che poi verranno da loro proposti anche ai coetanei dell'intera scuola. Ecco, questo tipo di sinergia che fa però del ragazzo o della ragazza molto giovani, i diretti protagonisti di una stagione letteraria, di scritture e che poi naturalmente il più delle volte si concludono con degli incontri con gli autori, trovo che siano delle formule in qualche modo veramente sfidanti, nuove, innovative e intelligenti perché mettono vicino realtà diverse come l'associazione culturale o, non so, potrebbe essere l'assessore delle pari opportunità o della cultura, con ragazzi giovani che però vengono coinvolti prima persona e sono chiamati a dire la loro. Tonella Swells, un flash finale, sappiamo che la penna di una scrittrice è sempre pronta e pensa già al prossimo volume, ecco, un sogno nel cassetto di che cosa si vorrà occupare nel suo prossimo libro? Ce lo puoi svelare? Allora, questo praticamente ha una settimana per cui è ancora molto presto naturalmente, anche se io scrivo di continuo e diciamo che adesso sono molto impegnata perché per la prima volta in vita mia mi sto ritrovando a portare in giro contemporaneamente tre libri, vengo ancora cioè chiamata nelle scuole per questa notte non torne e soprattutto per il mio nome Asia ed ora è partita anche l'avventura di questo libro, però posso anticipare che nel prossimo anno ci sarà un nuovo libro con Feltrinelli per i lettori più piccoli in versi questa volta e quindi a mio parere il versante per me, nelle mie corde, sicuramente c'è anche spazio per continuamente per i lettori più giovani perché il dialogo con i ragazzi e con le ragazze mi sta veramente molto molto a cuore, credo tanto nella necessità di far dialogare e interagire generazioni diverse perché se non puntiamo sui ragazzi, sulle generazioni più giovani non ci sarà il futuro. Grazie, grazie davvero per essere stata con noi a Tonella Svuelz, in tutte le librerie trovate il suo ultimo romanzo storico ma anche gli altri volumi da lei scritti, noi siamo in chiusura, vi ricordiamo gli appuntamenti per la serata su TV12, come ogni giovedì l'appuntamento con l'agenda di Alberto Terasso, l'informazione invece tornerà domani alle 7.35 con la nostra rassegna stampa. Buona serata! Grazie a tutti!